Nicola Zanone, il direttore di App Industria a Venezia, direttore, voi avete organizzato un incontro, un evento dove si parla di lavoro, dove si parla di offerta, dove si parla di proposta e si parla soprattutto di talenti. Voi siete un vero collante nell'ambiente di questo ambiente, appunto nelle industrie, dove avete messo insieme oggi addirittura 500 aziende. Insomma, siete davvero la chiave di svolta per quanto riguarda il futuro delle industrie nel territorio. Ma sicuramente è stato un evento di grande successo, siamo soddisfatti del risultato e soprattutto abbiamo visto attenzione, partecipazione e vivo interesse ai temi che abbiamo affrontato. Del resto, sulla risorsa umana si basa la ricchezza e il successo delle nostre aziende. Solo su di esse, investendo su di esse, potremo far crescere questo tessuto imprenditoriale. Siamo un sistema industriale di trasformazione di materie prime, per cui in verità la nostra materia prima su cui puntare è la risorsa umana. E noi come associazione abbiamo il compito di approfondire queste tematiche e di dare metodi alle nostre aziende per selezionare e motivare al meglio le proprie risorse. Le aziende appunto hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno anche di mettersi magari a confronto o magari anche comunicare l'uno con l'altro. La comunicazione è fondamentale. Voi potete essere davvero il collante? Questo è il nostro obiettivo primario, far dialogare le aziende per trasferire best practice ma trovare anche occasioni di business. Perché il nostro sistema si basa sulla rete, sull'interazione e tante piccole realtà messe in rete possono in realtà fare grandi sistemi economici. Questa è la nostra forza, la forza del nord-est. Tante realtà di piccole dimensioni ma fra esse collegate riescono a raggiungere risultati che solo multinazionali riuscirebbero ad affrontare.